Un saluto a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale da Michele. In questo nuovo video andremo a vedere la prima uscita, costruisci il SIAE Marchetti S79 Sparviero, il più celebre aereo italiano della seconda guerra mondiale. Ho dovuto per forza prendere in mano il telefonino perché è veramente grande questa prima uscita perché deve contenere anche il dvd. Allora possiamo vedere il dvd fornito nella prima uscita filmati dell'archivio storico dell'aeronautica militare anteprima del modello in scala 1 a 24 dell'A7. Poi andremo a vedere nel dettaglio. Poi abbiamo la guida all'opera e alla storicità del modello, quindi i due fascicoli, e il blister con all'interno i primi componenti della prima uscita. Adesso andiamo a vedere il retro di questa prima uscita. è veramente grande, veramente grande. Allora vi darò una rapida vista perché successivamente penso che saranno tutte contenute queste informazioni all'interno dei fascicoli che andremo a vedere. Questo 7 non lo troverete, sicuramente sarà il numero che l'edicolante ha messo delle copie che le sono state fornite. Poi vi spiego tutto nel dettaglio. Costruisci lo storico trimotore della regia aeronautica. Qui ci sono tutti i dettagli particolari, ma li vedremo dopo. La collezione è composta da 110 uscite. Il prezzo della seconda uscita è di 5,99. Le successive 108 uscite, delle 110 appunto, costeranno 11,99. È ovvio che per chi farà l'abbonamento, andremo poi a vedere, per le prime due o tre uscite, a seconda di dove volete partire, avrete uno sconto, diritto uno sconto, come in tutte le collezioni. Abbiamo detto che della scette, la cosa importante è che è un prodotto ufficiale della difesa e servizi, autorizzato dall'aeronautica militare con licenza concessa da difesa e servizi e CPA. Qui abbiamo, per scoprire di più, inquadra il code QR o vai su www.ascette-fascicoli.it. Perfetto ragazzi. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio le tre cose che ci vengono fornite insieme alla prima uscita. Ed eccoci qua. DVD del S7I Marchetti S79 Spardiero. Andiamo a vedere un po' la storia principale di questo splendido trimotore. S79 Spardiero, una macchina perfetta soprattutto, chiedo scusa, soprannominata dagli inglesi, il gobbo maledetto per via della tipica gobba posta dietro l'abitacolo da cui fuoriusciva la micidiale mitraiatrice da 12,7 mm. Un velivolo agile e veloce impiegato dalla regia aureonautica nei teatri di guerra della seconda guerra mondiale, dalla Spagna alle coste del Nord Africa fino alle incursioni in mar aperto in pieno Mediterraneo, con temibile aereo silurante. E questo lo vedremo dopo. L'aereo silurante. In questo DVD potrete trovare una selezione di esclusivi filmati storici, quindi hanno preso i più belli, i più esclusivi, provenienti dagli archivi dell'aereonautica militare e un'antiprima sui principali dettagli costruttivi di questa inedita grande riproduzione da esposizione, un capolavoro di modellismo dedicato ad Ascetta a tutti gli appassionati di aeronautica. La durata del filmato è di 15 minuti circa. Adesso andiamo a vedere i fascicoli. Attenzione ragazzi, vi dico, fate attenzione alla gomma in tutte le collezioni che mettono perché se inadvertitamente appoggiate il fascicolo sopra vi si può danneggiare e sarebbe un peccato. Allora, il DVD lo abbiamo visto. Andiamo a vedere adesso il resto. Abbiamo la guida della storicità del modello, abbiamo la guida dell'opera del modello, che poi ti andiamo a vedere. State tranquilli che vi faccio vedere tutto, sempre che non mi si blocchi il telefono, perché è il secondo filmato che faccio. Speriamo di no. Ecco, queste sono, per chi si volesse abbonare, guardate, in quadro senza neanche dirvi nulla perché è tutto chiaro qui. Ah, vi danno anche, anche se potete vederla da voi, la targa storica Marchese, materiale metallo, dimensioni 16x21 cm, col secondo invio e col quarto invio, il piano da taglio per la lavorazione di precisione, materiale PVC, dimensioni 45x30 cm, anche questo in regalo. Questi sono tutti i regali che vi verranno forniti in abbonamento. Ok, via questo. Questo è quello che abbiamo appena visto. Queste sono le pagine dei servizi. Come sapete, dietro la copertina ci sono sempre le pagine dei servizi. Andiamo adesso a dare una rapida vista dei contenuti per chi fosse interessato anche alla lettura. Qui abbiamo la collocazione dell'antenna del radiogoniometro, la mitragliatrice da 12,7 dorsale e in caccia, cioè anteriore. Un aereo mitico. Eh beh, si scelgono sempre collezioni che abbiano una storicità importante. Vedete, così chi ha piacere di leggere anche cosa è scritto all'interno dei fascicoli può farlo, altrimenti basta mandare avanti il filmato. Ma non lo fate ragazzi, guardatelo tutto, guardatelo tutto e ricordatevi se vi è piaciuto di mettere un bel mi piace, se non vi è piaciuto non importa ragazzi, non mettete nulla. Iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella così sarete sempre informati su ogni video nuovo che appunto proporrò. Qui abbiamo le misure del modello, che è tutto scritto qui, così facciamo prima e non vi annoio troppo con i video lunghi, l'importante è avere le informazioni. E quindi tornando al discorso di prima, se avete piacere di iscrivervi, guardatemi anche, guardatevi la mia playlist del canale dove sto costruendo la mitica Ford Gran Torino di Staschiace della Chet, la Citroen 2 CV Charleston della D'Agostini, Iron Man dove do tutti i consigli possibili per migliorare la funzionalità e la stabilità dell'armatura, molti avranno il piede ballerino, qui abbiamo i contenuti eh. Tanto ragazzi stavo parlando anche di altre cose perché basta leggere qui. Chi ha appunto, dicevo, il polso di Iron Man ballerino, che si muove troppo, la caviglia che non tiene, può tranquillamente, questo andiamo a vedere dopo perché ci fa vedere il montaggio. Potete tranquillamente intervenire seguendo i miei filmati, l'unico canale di Michele Armonica dove potete trovare le soluzioni e non soltanto il semplice montaggio. Seguitemi ragazzi e oltre a quello troverete anche modelli della CMC di autovetture storiche in scala 1 a 18 e anche altre scale, come anche recensioni su pistole CO2, soft air elettriche, più avanti piano piano metteremo tutto ragazzi. Dobbiamo cercare di far crescere questo canale e ci riuscirò solo grazie a voi, al vostro aiuto. Perfetto, guardate che bella immagine, bellissima. Adesso abbiamo fatto vedere anche questo, andiamo a vedere un po' cosa ci dice. Guida all'opera. Allora, il dettaglio, ali con centine in legno, bellissime. Elica tripala a passo variabile, vuol dire che girando sfrutta il vento, quindi dà anche la posizione durante il volo. Motori ispezionabili, quindi ci saranno delle parti che sarà possibile estrarre. Abbiamo fuori uscivano due multilettrici da 12,7 mm. Allora, questo l'abbiamo già letto e non lo leggiamo più. Io ve lo inquadro, ma l'abbiamo già letto prima. Questo invece è interessante per il nomignolo. L'S-79 Spardiero, una macchina formidabile, soprannominata dai nemici il Gobbo Maledetto, che ne venne ben presto uno dei velivoli più famosi e temuti di tutto il conflitto mondiale. Gobbo Maledetto, perché aveva una gobba qua sopra, nella parte più alta della fusoliera, dove i nemici ovviamente, a seconda della posizione, non potevano vedere il mitragliatore e quindi la mitragliatrice. Qui abbiamo delle immagini storiche reali. Qui ci dice come è realizzato. Realizzato in metallo e legno, grazie alle parti di rivestimento a movibili, potrà ispezionare l'intera struttura a traviccio, le semiali, gli interni, i dettagli meccanici, gli armamenti e tante altre cose. Un grande e inedito modello da esposizione, chiedo scusa, per celebrare una leggenda dell'aviazione. Qui abbiamo anche questo, ve lo faccio leggere a voi. Questo l'abbiamo già visto, è inutile rileggerlo. Ecco qua, qui abbiamo siluro aereo, completo di carrello di trasporto e di impennaggio per il lancio in acqua. Perché questo siluro, nel momento in cui toccava l'acqua, si impennava avendo il legno sopra che è più leggero, quindi alzava la punta di questo siluro, si staccava l'ogiva dove c'era il legno e lui continuava, grazie alle eliche, la sua corsa verso il bersaglio. Qui abbiamo l'assistenza al montaggio, se avete dubbi, per avere consigli. Abbiamo le misure, quindi le dimensioni, è veramente grande, lunghezza 65 cm circa, apertura alareo 88 cm circa, altezza 19 cm circa. Questo l'abbiamo già visto, ecco qua, postazioni difensive, complete di mitreatrici per coprire i settori dorsali, laterali, ventrale e frontale. Carrelli retrattili, perfettamente funzionanti e dotati di una robusta struttura a forcelle in metallo. Qui abbiamo la livrea originale, con lo stema regio, colori e insegne storiche della 278esima squadriglia della regia aeronautica. Ovvio allora c'era il re, no? Portello apribile per l'accesso alla cabina di pilotaggio e alle posterzine dell'equipaggio. E non è finita, non è finita ragazzi. Andiamo avanti. Speriamo che il telefonino non blocchi di nuovo il filmato, perché purtroppo, dovesse accadere, vi chiedo anticipatamente scusa, sono costretto a farne un secondo, perché è già la seconda volta che mi si blocca. Il primo l'ho cancellato, ragazzi non chiedetemi di farlo di nuovo se dovesse verificarsi questo problema, quindi se purtroppo dovrò fare un secondo video vi chiedo anticipatamente e nuovamente scusa, speriamo di no. Poi abbiamo le bombe. Nella configurazione bombardiere il cestello sistemato in fusoliera veniva utilizzato per il carico di caduta composto da bombe o spezzoni. Però attenzione, o uno o l'altro, cioè questo aereo poteva fare una cosa o l'altra, perché se no il carico, altrimenti il carico diveniva troppo eccessivo. Quindi se aveva l'auto silurante non aveva le bombe e viceversa. Ecco perché veniva impiegato in diversi settori, come abbiamo letto prima. Abbiamo la cabina di pilotaggio, cabina completa di seggiolini dei piloti, volantini, manette e strumentazioni di volo. Sono presenti anche le postazioni di motorista e operatore ario. Bellissimo. Struttura vista, tralicci. L'intera struttura del veivolo è visibile dalla fusoliera traliccio, alle ali con longheroni e centine. Anche le parti interne delle gondole alari con motori e vani dei carrelli sono riprodotte. Ragazzi, qua la punteggiatura è venuta meno a Michele. Comunque, spero abbiate compreso il contenuto e comunque potete anche leggerlo. Fusoliere semiali con pannelli amovibili. Il rivestimento del modello può essere parzialmente rimosso per rivelare i dettagli costruttivi quali gli intendi della fusoliera, la meccanica dei motori radiali e la struttura a centine in legno delle semiali. Qui ci dicono che con i fascicoli, ad ogni uscita, un fascicolo con appassionanti rubriche di approfondimento storici e tecnici sulla genesi e lo sviluppo del leggendario S79, quindi sulla nascita proprio. Schede di montaggio, completa di schemi dettagliati e fotografie per costruire passo a passo e facilmente il modello di scala 1 a 24. Fedele all'originale in ogni parte progettuale. Cieli di guerra, l'impiego bellico del trimotore dalla metà degli anni 30, quando fu protagonista di straordinarie imprese sportive alla conversione a bombardiere, all'impiego, come veloce e temibile, a oereo silurante. Ok? Quello che dicevamo prima. O una cosa o l'altra, o bombardiere o aereo silurante. Il progetto e la tecnica, i segreti costruttivi, le caratteristiche tecniche, le prestazioni e lo sviluppo di nuove versioni, ali d'Italia, i più significativi velivoli della regia aeronatica nella seconda guerra mondiale, illustrati con foto d'epoca e profili a colori. Rileggerei questo passo perché Michele l'ha letto veramente che io che sono italiano non l'ho capito perché ho letto male. Allora, il progetto e la tecnica. Qui troveremo i segreti costruttivi, le caratteristiche tecniche, le prestazioni e lo sviluppo nelle nuove versioni. Perfetto, così va meglio ragazzi. Vi anche questo. Eccoci qua. Questo è quello che troviamo all'interno del nostro primo fascicolo. Andiamo ad aprirlo. Eccoci qua ragazzi, abbiamo aperto il blister. Vi volevo solo far notare che bellezza lo stemma araldico dell'aeronautica militare regia del tempo. Bellissimo. Con l'oleogramma sotto. Bellissimo. Prodotto ufficiale. L'abbiamo già detto, lo so. Andiamo subito a vedere cosa abbiamo all'interno. Questo è metallo. Dal peso assolutamente non è alluminio. Sarà sicuramente zama perché l'alluminio, pur essendo un metallo più nobile rispetto alla zama, è comunque più leggero. Quindi questo dà sicuramente più peso. Facciamo così e poi guardiamo tutto. Queste si sfinano ragazzi. Attenzione. Avete visto? Stavo guardando il grado di verniciatura. Molto bello. Perfetto. Quindi abbiamo detto metallo, 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 l'ogiva anteriore. Metallo. La verniciatura è insomma bella ma si vede un po' di argento qua e qua sotto la parte azzurra. Poca roba ragazzi però. Preferisco dirlo. Questo è un altro pezzo metallo. Questa sicuramente è la marmitta laterale. Plastica. Queste sono le tre dime che ci servono per montare le pale perché vi ricordate che sono fluttone insieme, si muovono insieme. Sono flottanti. Qui abbiamo i due pezzi che sono di plastica. Questo che è plastica. Due serie di viti per metallo. Anzi no, chiedo scusa. Sapete perché mi sono un po' confuso perché in tutte le altre collezioni che sto facendo quando è scritto in nero identifica il metallo cioè che va per il metallo. Per la plastica sono sempre state azzurre. Qua invece troviamo tutti e due i colori neri nella scritta AP e AM delle viti ma AM vuol dire metallo quindi queste sono destinate a essere avvitate sopra il metallo e qua è AP sempre nero e non azzurro e queste però è plastica. Va bene solo questo che volevo dire. Andiamo avanti. Questo è anche metallo. Questo è verniciato veramente bene. E poi abbiamo questi che sono sicuramente gli adesivi che poi andranno montati sulle fusoliere e altri parti del nostro modello. Stavo leggendo quello che c'è scritto qui. Guardate ragazzi che bello. Che particolare. In questo stemma c'è scritto col cuore col cuore e con l'arma oltre ogni meta. E qui non chiedetemi perché ma abbiamo poi magari lo capiremo all'interno del fascicolo forse il motore sarà un Alfa Romeo perché abbiamo uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sei adesivi o decalcomanie dell'Alfa Romeo col biscione e lo stemma dell'Alfa Romeo. Va bene ragazzi andiamo a prendere il fascicolo della guida all'opera e procediamo. Eccoci di nuovo in diretta ragazzi. Qui abbiamo i pezzi appunto presenti in questo primo fascicolo e ci dicono per portare a termine questa prima fase di montaggio vi serviranno tutti i componenti dell'elica, pezzi da 4 a 11, oltre alle viti AP e AM vi servirà anche un cacciavite con punta a croce. Tenete a disposizione anche un paio di pinzette che potrebbero tornare utili per posizionare i componenti più piccoli. Andiamo subito alla prima fase. Prendete la base dell'ogiva e il mozzo inferiore dell'elica. Ragazzi scusate ho messo in pausa il video perché in effetti non vi avevo presentato questo ingranaggio. Fate attenzione perché ovviamente era contenuto nel fascicolo ma non me ne sono accorto perché è così leggero che era rimasto attaccato alla plastica. Perfetto abbiamo detto. Prendiamo il mozzo inferiore dell'elica. Quindi base dell'ogiva, mozzo inferiore dell'elica e lo posizioniamo qua dentro. Non importa così, così, basta che lo mettete e lui si incastra. Vedete? No, 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 no. Scusatemi ragazzi, cancellate questo passo. Questo è. Questo. Non confondiamo questi pezzi. Questo perché deve avere la parte di plastica nera qui che si inserisce qua dentro. Così. Perfetto. A questo punto ci dice di prendere l'ingranaggio e mettere i dentini posizionati verso l'alto. Quindi così. Qua ci dice di usare le pinzette ma a me non sono servite. A questo punto poi ci dice ora vi serviranno le tre pale dell'elica e le dime per determinare correttamente il passo, ossia l'inclinazione delle pale rispetto all'asse di rotazione. Andiamo a prendere le dime. Eccoci qua. Andiamo a prendere le dime e inseriamo all'interno la prima pala e faremo successivamente la stessa cosa di questa per tutte le altre. Fate solo attenzione che l'ingranaggio, non vi potete sbagliare perché ha l'innesto preciso, l'ingranaggio si deve chiaramente inserire in quello sotto, cioè in quello che abbiamo messo prima. Appoggiamo questo qui sul nostro piano d'appoggio e lasciamo che faccia tutto la, scusatemi ragazzi, avete ragione, scusatemi, e lasciamo che faccia tutto, vedete, rifaccio vedere, mettiamo questo qui, vedete, e ripetiamo la stessa cosa per tutte le altre, va bene? Ecco fatto ragazzi, prima di procedere all'assemblaggio del mozzo superiore a quello inferiore, controllate che qui siano tutte ok. Tutte allineate bene. A questo punto andiamo a posizionare questo sopra. Lo pressiamo col nostro dito, tanto c'è sotto il fondo dell'ogiva, e lo fissiamo con una vite AP. Per plastica, col pollice e indice e due dita, aprite semplicemente il sacchetto, così. Ecco fatto. Andiamo a prendere la nostra vite, e la andiamo appunto a stringere all'interno del mozzo. controlliamo che tutto vada bene, se non girano è perché è troppo stretta la vite. no, girano. Non so se si vede. Proviamo a allentare un po'. Meglio. Guardate l'inclinazione di questa pala quando muovo. Vedete? Allentate un po', perché se stringete troppo viene meno questo lavoro. Anche se non ci dobbiamo giocare, ragazzi. Ci mancherebbe. nel passo successivo ci dice, prendete il terminale, questo, e assemblatelo al mozzo superiore, inserendo i perni del terminale nei fori del mozzo. ecco fatto. A questo punto, ora posizionate l'ogiva sul complesso dell'elica, fate coincidere i fori dell'ogiva con quelli della base. quindi mettiamo questo qui, fate attenzione perché ci sono i tre perni che devono entrare qui, uno, due e tre. perché qui ci andranno le viti. Andiamo a posizionare sopra la nostra bella ogiva, veramente bella, guardate, e prendiamo le tre viti da inserire. A, M. Apriamo il nostro sacchetto. Adesso io proverò ad avvitare le mie viti. Se vedrò che c'è troppa resistenza, sapete, per chi mi segue, che io mi creo i filetti all'interno, quindi le passo prima, le filetto e poi le monto tutte. Proviamo ad andare a vedere come si comporta questa prima vite A, M. Va bene ragazzi, non serve filettarla. Non stringetela tutta, la prima, non stringetela tutta, e fate attenzione a non toccare le eliche, le pale. Tenete solo l'ogiva. Speriamo ragazzi che non si blocchi il filmato. Se si blocca vi dico solo che abbiamo finito. Ma mi auguro che non accada, perché il telefonino, purtroppo, è quello che è. Iscrivetevi ragazzi al mio canale, perché vi darò anche indicazioni e consigli sul montaggio, non soltanto leggendo le istruzioni, per evitare che il vostro modello possa subire danni durante il montaggio. Controllate poi che le pale funzionino, guardate qui, fissate questo punto e guardate come si muove. Vedete? Vedete questa qua? Ok, funziona tutto. A questo punto, questo l'abbiamo finito, qui ci dicono di provare il funzionamento come vi ho fatto vedere adesso, e questo è il risultato finale di questa prima fase di montaggio. Abbiamo la nostra bell'elica, veramente bella ragazzi. Allora, queste dime vi serviranno poi per i successivi montaggi e non le perdete, non credo che le ridaranno. Comunque, voi non buttatele, perché abbiamo ancora due eliche da montare, perché questo è un tri-motore. Abbiamo la marmitta e questo che andrà poi così. Vi dico solo, nella prossima uscita troveremo tutti questi particolari, il longarone qua, l'ongherone chiedo scusa, in metallo, abbiamo le parti in legno, principali parti del siluro, quello di cui parlavamo prima, quello che si impenna, o questo o le bombe, ricordatevi, nel senso che avremo tutto nell'opera, ma questo aereo o poteva andare con le bombe che erano pesantissime, o con le, chiedo scusa, o con i siluri o con le bombe. E poi abbiamo le testate del motore, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Quindi questo motore aveva, almeno, se non ce ne metteranno di più, aveva nove cilindri per ogni motore. Qui abbiamo le valvole, queste rappresentano le valvole, motore a quattro tempi, ovviamente. E basta, ragazzi, abbiamo finito. A questo punto io vi saluto e vi do anche un'informazione che, purtroppo, mi dispiace, vorrei tanto poterla fare per far crescere anche meglio il mio canale, perché so che è un modello bellissimo, ma, purtroppo, non posso fare tutto. Non posso fare tutto, come vi ho già detto prima, le collezioni che sto facendo sulla playlist le potete trovare, e quelle le finisco tutte, quindi sono già tre. Considerate che io sto anche costruendo tre Iron Man, non uno, tre, perché ne volevo tre, perché ho capito che è veramente un ottimo modello. E quindi ne ho presi tre per presentarlo. Uno danneggiato, uno in atterraggio, in posizione di atterraggio sulla base premium, e uno in piedi. Danneggiato, perché forse molti non lo sapranno, ma successivamente alle 100 uscite, parlo di Iron Man della De Agostini, successivamente alle 100 uscite, forse verranno proposte 20 uscite con pezzi danneggiati. Va bene, ragazzi, Michele vi saluta qui, vi ringrazio del vostro tempo, grazie di avermi seguito, grazie dei mi piace e ancor più grazie, ragazzi, se condividerete i miei video nei gruppi e mi aiuterete a crescere in questo progetto con le vostre iscrizioni. Ciao ragazzi, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Grazie infinite. Ciao. Ciao.